Salve a tutti piccoli e grandi lettori, la recensione di oggi è l'estate, edizione topipittori. Questo libro non ha una trama, ma descrive ciò che succede durante l'estate e durante l'inverno. L'estate, il temporale scoppia, il gelato cola, il capriolo bruca, lo stagno fiorisce e così via. D'inverno, la neve cade, il ghiro dorme, il camino fuma, il lupo gioca, il bambino pattina. Il tema principale del libro è l'azione, che ogni essere vivente compie l'estate e l'inverno. Gli opposti, le stagioni e quello che succede nel loro ciclo vitale. Il libro è cartonato, con le immagini a tutta pagina, e rendono bene l'idea e l'azione svolta da ogni soggetto. Essenzialmente il libro parla da sé, dà una sensazione di naturale, anche per i colori tenui. Sempre negli stessi autori potete trovare anche il libro sul prato, trovate il link in descrizione. L'età di riferimento è da tre anni. Spero che vi sia piaciuta questa recensione, se sì, mettete mi piace e condividete. Seguitemi sul canale YouTube, su Facebook, su Instagram, su Twitter, su Pinterest e sul mio nuovo blog. Trovate il link in descrizione. Se volete lasciate un commento per dimmi cosa ne pensate. Grazie, buona lettura, piccola, grande mondo dei libri e... Grazie a tutti.